Franco Genzale presenta la siringa di Mila Martinetti. Di aver voluto rompere la coalizione. Dal canto suo la candidata sindaco della Lega, Bianca Maria D'Agostino, replica che è vero il contrario, ossia che è stata Forza Italia a decidere di rompere. In attesa che si sciolgono i dubbi su chi abbia voluto rompere la coalizione e chi no, una cosa si può affermare qui e subito, oltre ogni ragionevole dubbio. Con questa storia i due candidati sindaci hanno abbondantemente rotto quei cosi che l'AdAgostino per natura non ha e preziosi. Boh!